Lì per lì ha avuto l'effetto di una bomba la decisione di Enac di indicare come ottimare la lunghezza di 2.400 metri per la nuova pista dell'aeroporto di Firenze. Non più tardi del 14 luglio scorso il Consiglio regionale ha approvato una variante che prevede una pista di soli 2.000 metri. Ma a 48 ore dall'annuncio di Enac e di fatto è il primo via libera al progetto, il governatore Enrico Rossi smorza i toni contro l'ente regolatore dell'aviazione civile. E pur ricordando che la variante esiste e che lui deve tenerne conto, apre al confronto. Dobbiamo vedere il masterplan di Pisa che è già stato approvato, se avrà tempi di sviluppo e di realizzazione adeguati e accelerati. Dobbiamo capire quale sarà il masterplan di Firenze e poi come si fondono insieme. Il fatto che ci sia un'unica società credo che rappresenti una garanzia. Società unica su cui sta lavorando Corporazione America, socio di maggioranza dei due aeroporti di Pisa e di Firenze. Entro la fine della settimana saranno presentate i consigli di amministrazione di SAT e ADF, le società che gestiscono i due scali, le linee guida di un piano di fusione tecnico che prevede la seguente tempistica. Entro Natale che i consigli di amministrazione decidano la fusione e entro gennaio che le assemblee votino la fusione. Corporazione America quindi sta andando avanti a testa bassa come dice Naldi, ma anche la politica a suo avviso deve fare la sua parte, velocemente. Come più volte ho detto e come mi è stato detto anche più volte, anche dal presidente della regione, il progetto deve andare avanti, deve andare avanti speditamente. L'economia non ci aspetta ma soprattutto non ci aspetta l'evoluzione che stanno avendo anche altri aeroporti che sono concorrenti. Fiumicino con l'alta velocità, Bologna, noi dobbiamo essere pronti come sistema prima. Dal canto suo il governatore Enrico Rossi ha fatto presente al governo che il nodo fiorentino non è l'unica priorità per la Toscana, indicandone altre due, il completamento della tirrenica e il collegamento fra le stazioni ferroviarie e due aeroporti.